La consegna giornaliera di prodotti freschi mantiene viva una città, ma come si può andare avanti con una lista crescente di restrizioni all'accesso e normative sulle emissioni? Riteniamo che la risposta sia un nuovo modo di pensare e l'innovazione, per portarvi al primo, vero ultimo miglio di un'era nuova ed entusiasmante, dove la tecnologia è progettata attorno alle energie più pulite. Presentiamo l'E200 totalmente elettrico di Thermo King, pensato per l'arduo ultimo miglio. Compatibile sia con autocarri elettrici che diesel, offre una semplice installazione plug and play, capacità costante reale e componenti su misura mai visti prima nel trasporto refrigerato, compreso un inverter dall'efficienza straordinaria, compressore a velocità variabile per un controllo preciso della temperatura. Nuovo sistema di controllo dinamico consente la comunicazione diretta tra l'unità e il veicolo. Tutto ciò con capacità di controllo remoto, localizzazione e monitoraggio delle prestazioni della flotta ovunque in ogni momento. Pacchi batteria opzionali per estendere la vita dell'unità per tutti i veicoli elettrici, per permettervi di circolare in completa sicurezza. Questo è E200, una scatola dall'aspetto accattivante, ricca di innovazione. Entrate nell'era dell'elettrico con Thermo King.